Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tank e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta sulla serie nella terra di Steve, quindi in Minecraft. Sono tornato dopo tantissimo tempo, dopo settimane, mi spiace per l'assenza, ma ho avuto dei grandi problemi di registrazione. Infatti questa sarà una puntata che raccoglie tre puntate, nel senso, ho già registrato due volte questa clip e due volte non ho potuto caricarla per motivi legati al video. Perciò vi spiego cosa è cambiato. Innanzitutto, voilà, ho preso un po' di diamanti e infatti nelle altre puntate trovavo dei diamanti, li prendevo, quindi facevo mining insieme a voi, ma non sono riuscito a registrarlo. Cosa faremo oggi? Ah, altre novità, pardonna. Ho finito bene bene bene, ho apportato alcune piccole modifiche al nostro piccolo granaio e ho fatto in modo che qua ci siano i cibi già pronti per essere consumati. Qua le sementi, qua uova, zucchero, grano, quindi cose che si utilizzano per fare il cibo e qua gli strumenti per la crescita del nostro grano e delle nostre piantagioni. Qua ho messo il letto, qua ho riempito la cassa di cose naturali, quindi canne da zucchero, fiori, eccetera, poi dopo chiaramente una volta fatto il magazzino non avremo più di questo problema, e ho messo una fornace e una crafting table. Ho messo qua fuori come suggerimento di qualcuno nei commenti delle balle di fieno, ho fatto piantagioni di zucche, patate, angurie e patate da quella parte di là. Un'altra cosa che ho fatto è stata andare nel nether, ebbene sì, vi chiedete perché sei andato nel nether? Non per fare il figo e neanche per esplorare il nether o fare chissà che cosa. Sono andato per prendere del quarzo. Perché ho preso del quarzo? Perché mi serve per fare la mia prima farm, che sarà quella di polli, per risolvere il problema delle piume e quindi delle frecce. Voilà, eccolo qui. Ho fatto un girettino da quella parte, qua ci sono i nostri amici pigmen, là sopra sono andato a prendere della glowstone, ho preso un po' di sabbia delle anime che ho ad una cassa fuori da casa, sono sceso giù di là, adesso mi sta laggando un po' il nether. Non è questo il clou di questa puntata. Cosa faremo in questa puntata? Andremo a minare, perché alla terza puntata, o entro comunque le prime puntate, bisogna andare a minare. Ho già trovato un posto dove andare e ho già trovato dei diamanti, i miei cari. Li ho lasciati lì in modo da poterli prendere assieme a voi. Adesso prendo del ferro che ho messo a cuocere, perché per trovare quei diamanti ho trovato una marea di ferro. Mi faccio l'armatura che mi è stata distrutta durante una delle puntate, mannaggia la miseria. Dopodiché, un'altra novità adesso ve la faccio vedere. Un'altra cosa che ho fatto, ragazzuoli miei, è stato girare. Ebbene sì, ho fatto delle mega esplorate per tutto il mondo, ci ho messo una marea di tempo. Infatti, non esce da settimana la puntata di Minecraft, perché ho fatto proprio un bel giro. Ho trovato in basso, comunque non troppo lontano da casa mia, un deserto. Ne ho trovato un altro in fondo a sinistra della mappa, ma ci metti davvero tantissimo ad arrivare. Ma comunque sono contento. L'unica cosa che non mi piace è che non ho ancora trovato villaggi. Dovrò trovarli, dovrò esplorare per trovarli. Ora andiamo a minare. Già tutto pronto, ho fatto due picconi. Ne avevo uno già di pietra e ne ho fatto uno di ferro, perché questo si sta per consumare. E andiamo a minare. Un'altra cosa, vi chiederete perché hai fatto tutta la costa di canne da zucchero? È una farma, che mi servirà per quando dovrò fare i libri. E quindi dovrò incantarli, che sarà una delle cose che farò nelle prossime puntate. Sono fatto tutta la scaletta per non morire male ogni volta che scendo. Avevo fatto dei piccoli cunicoli per poi arrivare da qualche parte, per trovare i diamanti. E li ho trovati subito qui. Qua l'ho lasciata una crafting table. C'è un pipistrello che prende fuoco. Allora, prima di prendere i diamanti, prendo il ferro e i lapislacchi. E prendo questi lapislacchi che poi mi serviranno per fare i libri. Il ferro e l'oro. E poi, tra l'altro, quando ho trovato quei diamanti, prima non c'era, come vedete, tutta questa cobblestone. E io stavo per finire sulla lava, ci stavo per morire male. Vediamo cosa c'è di qua che non sono ancora ben andato. Un bel niente. Va bene. E da questa parte che non sono andato. Non c'è niente. Vabbè. Però abbiamo trovato qui i diamanti. Cosa mi serviranno i diamanti? Mi serviranno per fare... Il piccone ce l'ho già, per farmi l'armatura in diamante. Perché adesso non ho qua il piccone, perché non mi serviva. Ma ho già il piccone. Forse ho anche già la spada, o forse l'ho persa. Comunque sono uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Vediamo se qua sotto c'è la lava. Qua c'è la lava, mi sono proprio infilato da scemo, beota, imbecille. Smettila di andare a fuoco. Basta. Come faccio? Non voglio morire qui. Non sarebbe carino. Non sarebbe carino. Basta, ok. Sono andato a fuoco come un idiota. Cos'è andato a fuoco? La crafting table. Non è carino neanche questo. Fanculo la lava. Odio per la lava. Odio. Vabbè, in ogni modo, vediamo da questa parte, non c'è lava. Allora posso prendere il nostro bellissimo diamantuccio. Quanti diamanti ho fatto? Sei. Ho rischiato di morire male. Ora direi che andiamo avanti da questa parte. Perché io ho florato, ma fino a un certo punto. Perché poi dopo mi sono fermato e ho detto, qua inizio la puntata. Mi sono preso un po' bene per Minecraft, come in realtà ero già preso bene prima, ma a maggior ragione in questo periodo. Quindi ho detto, devo assolutamente riprendere a fare le puntate per la mia serie, per la serie Nella Terra di Steve, perché se no, non portandola avanti, perde di interesse. Cioè, anch'io non mi interesserei di una serie che viene messa una volta ogni tanto. Quindi proverò a portarla di più. Anche se non è facile ragazzi, non è facile, perché questo è il periodo in cui la gente, compreso me, è in vacanza. E quindi non è a casa e quindi non può fare video. Adesso cosa facciamo? Ci vediamo quando avrò trovato qualcosa o quando sarà passato troppo tempo e vediamo cosa succede. A dopo. Allora ragazzi, ho trovato dell'oro. Continuando per il percorso in cui ci eravamo lasciati, andando poco più avanti. Oro e lapislazzoli, molto vicini. Bella cosa, bella cosa. Però io preferirei trovare altri diamantozzi, perché l'oro è vero serve, non avendo una farm di oro, come ce l'ha Surreal Power. Mamma mia, Surreal Power, che farm di oro che ha. È forse una di quelle più belle che abbia mai visto. Ora io sto andando avanti in perterrito, ma se non trovo qualcosa nell'arco di poco tempo, penso che viro o a sinistro o a destra e vedo cosa fare. Ci vediamo di nuovo dopo. Ho trovato dell'altro oro. Indovinate dove l'ho trovato? Da dove sono arrivato? Vuol dire che non l'avevo notato. Sto facendo un sacco di rime, ma è davvero così. Adesso lo sto prendendo, poi dopo a casa lo cucirò, lo estrarrò. Ho deciso di tornare su, di tornarmene verso la mia casina, casetta, perché è passato un po' di tempo e non ho trovato un bel niente. Ho trovato solo della redstone e qualche altro. Poco ferro, ho trovato poca roba. Un po' d'oro, 17 pezzi d'oro. Il carbone non lo prendo perché ne ho una marea, visto che sto registrando, non ho l'audio. E se ci fosse un mob qua vicino, soprattutto un mob, non faccio nomi ma un creeper, mi farebbe saltare in aria come pochi. Tra l'altro quando sono sceso qua ne ho trovato una marea e c'era un rumore pazzesco di mob. Adesso non so se lo sentite ancora. Torniamo su, torniamo a casa e direi che per adesso questa miniera è stata esplorata. Io ne ho un'altra di miniera, tra virgolette, di fiducia, che l'ho fatta su una sponda del fiume vicino a casa. Quella è molto più carina, cioè avevo trovato i diamanti di qua. Cioè avevo trovato i diamanti in una delle due puntate che ho registrato e che non ho potuto mettervi. Mi spiace perché era venuta proprio carina. L'ho circondata con della cobblestone e del legno, ma niente di che, solo per ricordarmi dov'è. Come vi ho detto ho esplorato un po' il mondo e vi dirò, è bellissimo perché è bellissimo, ma i biomi sono giganti. Voglio dire, io praticamente attorno a me, a parte questo oceano qua, ho un sacco di pianure e un sacco di foreste. E a parte quei due bellissimi deserti, non ho grandi differenze di biomi. Comunque siamo a casa, posiamo le cose che dobbiamo posare, quindi sei diamanti, tredici lapislazzuli, mettiamo a cuocere ciò che compete. Prendiamo questo ferro dall'altra volta e vediamo se ho altre novità per voi. Ah, vi faccio vedere solo l'entrata di quella caverna che vi dicevo, che è là, se la vedete. L'ho fatta a mo' di scaletta, ma l'entrata è dall'altra parte dove c'è il legno. Comunque, io vi dico che per questa puntata è tutto. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato una puntata della serie Nella Terra di Steve. Vi dico che tornerà presto un'altra puntata, spero. Spero di riuscire a portarvela. Vi invito a mettere vi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.